Chi non andava in Francia non era gente. Testimonianza di Michele Giuseppe Lucchese, nato a Rocca Sparvera, classe 1885, contadino. Rocca Sparvera è un paese molto antico. Un giorno ho chiesto a Don Barale, mi dica un po' Priore, discendiamo mica da NN noi lucchese? No, 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 i lucchese sono antichissimi. Quando nel 1700 c'è stata la rivoluzione dei Giacobini, hanno già buttato giù dal ponte un certo lucchese di 64 anni, sposato con una certa milanesio e quel giorno hanno fatto 18 vittime qui nel paese. Qui i francesi hanno fatto vittime e brutalità, ne hanno fatte barberie. Sono passate di qui tutte le regioni, spagnoli, austriaci, francesi. Queste cose le imparavo a scuola dal maestro Giavelli di Sambuco. Se eravamo tanti a scuola, quando ero ragazzo c'erano due scuole. Prima, seconda, terza. 60-70 ragazzi da un maestro e 60-70 ragazze da una maestra divisi. Se c'era dei bambini c'era popolazione. In quei tempi erano circa 3.000 gli abitanti di Roccasparvera. 50 a scuola c'erano sempre. Però, mi scusi la parola, non era poi tanto comodo come ora. Se c'era da andare a mazzolare un po' di legna o pulire i campi delle pietre, via, via. E quelli che avevano niente, avanti da servitori. A 10-12 anni si andava già via da Vachè. Le famiglie erano tutte numerose. Giacu de Cicu di Pragudin aveva quattro ragazze di famiglia. Vedovo con due figli aveva sposato Maria di Moiola, una vedova con due figli e in più due dell'ospedale, due trovatelli. E ne hanno avuti altri tre dall'ultimo matrimonio. Tanti configli prendevano i bambini dell'ospedale, facevano l'allevamento e guadagnavano così quel poco con gli NN. La mia famiglia aveva un po' di bosco, di castagneto e un po' di prato. Più o meno avevano tutti così. Qui era tutta piccola proprietà. Chi era ricco era Cassin di Cuneo, banchiere e presidente della Camera di Commercio e deputato. Lui aveva qui una cascina grande che dava 100 sacchi di grano all'anno. Aveva mille diavoli, palazzi a Cuneo e altre sei cascine e la più piccola era quella di La Rocca. Si faceva come si poteva. Patate, meliga, castagne. Si adattavano alla miseria. Intendiamoci poi bene. A me fa mica niente che c'è la donna che ascolta. Ora il pane lo fanno per condimento, non per nutrimento. Invece quel tempo là si bagnava solo il boccone della polenta sopra la buntà e si mangiava o buono o cattivo che fosse. Basta che sia pieno, come diceva Gioanin Dragunat. La buntà era un po' di latte e un po' di toma di latte scremato, ma il più buono era l'appetito, ecco. Mi capisce? Giacu Giacicu allora aveva una mula e faceva anche un po' il carrettiere. Lui ne aveva anche dei suoi figli. Tutte le primavere partiva con la mula e il carro con le sponde. 8-10 Vacherot sopra e avanti. Partivano e andavano a Barcellona, in Francia. In effetti si chiamava Barcellonet, oltre il colle della Maddalena, nella valle dell'Ubaie. Là facevano il mercato. Chi ne aveva bisogno si presentava e chi aveva bisogno di lavoro era lì. Si contrattava. Partivano alla primavera e all'autunno tornavano in qua. Chi non andava in Francia non era mica gente. Oh, per carità! Chi non andava in Francia non era pregiato. Ci andavano rami e ramaglie, uomini e donne e bambini. Le donne partivano di qui. Andavano in Francia a raccogliere fiori, IRS di Tolone. 8-10 donne in gruppo andavano in là a piedi. Il mio suocero era del 1846, è morto nel 1946, a 100 anni e due mesi. Andava a piedi a Marsiglia, lavorava in una fabbrica da zucchero. Lo zio di mia moglie, Cichin, è morto a Parigi. Lavorava anche in una fabbrica da zucchero. Tanti si fermavano là. Momenti la Francia di tre parti, due sono di nazionalità italiana. Anche mia moglie è andata a raccogliere fiori in Francia. Noi all'autunno abitavamo su alla Barma, sulla Collina Alta. Il principio di novembre, quando erano finite le castagne, li vedevamo passare, venivamo su da Bernezzo in fila e tanti non avevano poi ancora delle valigie. Due stracci in un sacco e partivano e andavano in Francia a scampare un po' la vita. Mio fratello, nel 1887, Bertu, è stato in Francia a Barcellona a piedi, ma non ha trovato lavoro ed è tornato in qua a piedi. Aveva 50 soldi in tasca, 2 lire e 50, tutto il suo avere. È arrivato e cadeva, crollava dalla stanchezza. E la miseria! In quei tempi là c'era Giolitti che governava. Giolitti era un grande uomo rispettato all'interno e all'esterno. Con un passaporto da quattro soldi, la gente andava tutto dove voleva. Guardi, qui la miseria c'è stata fin dopo la guerra del 1940. Ma sa a chi dobbiamo dire grazie, se poi è andata meglio, a quel ministro che è morto. Era un Veneto. Gli altri stati gli hanno dato una grande simpatia, particolarmente l'America. Ecco, De Gasperi. Io non ho fatto la guerra del 18. 18. Ero il sostegno della casa. Ho avuto l'esonero agricolo. Quattro maschi e una sorella. Il primo si era sposato. Il secondo del 1881 è morto da bambino. Il terzo ero io. Il quarto è Berto, che ha girato mondo e paesi. Berto ha dovuto partire per la guerra. Eravamo in un bosco, io e mio fratello, e arriva mia sorella gridando. Berto, Berto, vieni giù, i carabinieri! È partito da soldato piangendo. Immediatamente. Aveva già fatto tre anni da permanente, quattro anni di guerra, sette anni da soldato. Si è salvato alla croce del cavaliere di Vittorio Veneto. Gli passano 60.000 lire l'anno. Non che io mi vanti perché è mio fratello. Lo merita. La guerra del 18 ha lasciato solo miseria. Hanno conquistato delle montagnacce, delle pietracce. Ma ora silenzio. Perché io non so di roba di politica, né niente. Che cosa pensavamo di quella guerra? Mi scusi. Bisognava ubbidire. Bisognava essere sottoposti alla legge. Sì, ce ne sono che hanno fatto i disertori. Hanno finito malamente. Come quello che a forza di prendere della porcheria, prendevano anche del decotto di tabacco. Non è partito ed è morto a casa. O ne sono morti tanti. Il fascismo. Noi con il fascismo abbiamo sempre seguito il nostro regime da vittime. Sempre. Tanto per dirle, il fascismo era tanto bello fin di un certo punto. Ma dopo no. Perché sa, Mussolini non è che avesse delle cattive idee. Aveva delle buone idee. È solo che ha dato un po' troppa responsabilità ai suoi dipendenti. È lì che l'hanno condotto alla perdizione. Mi scusi la parola. Io non sono mai stato un politicone da una parte o dall'altra. Ubbidisco alle leggi e basta. Ma per esempio, la guerra contro la Francia era un'idea sbagliata. Noi, con tutta la nostra parentela che abbiamo là, come potevamo andare avanti? È stato un errore tremendo andare contro la Francia. Poi qui sono arrivati i tedeschi. Li ricordo perché ne abbiamo ospitati qui. Gli ho dato della paglia per dormire. C'erano quattro ufficiali che giocavano le carte a sua moda. Non ci hanno dato un dispiacere grosso così. Però noi li rispettavamo. Perché intanto non li capivamo e loro non capivano noi. Ma c'erano anche degli italiani, a pari di noi altri, vestiti da tedeschi. Che ci prendevano per coglioni. E quelli erano i peggiori. I partigiani? Io avevo due figli nei partigiani. Erano al sicuro nei partigiani. Andavo a lavorare su al Shot Rosa, sopra Rittana. Lassù c'era il distretto dei partigiani. Cosa pensavamo di quella guerra? Uno sparava addosso all'altro. Ecco. Passata la guerra abbiamo avuto i francesi. Prima un battaglione mal combinato, poi sono venuti i veri decollisti dai paesi pirenei. Questi erano prudenti, rispettosi, e ci dicevano che quelli di prima erano tutto l'avanzo della Francia. Come da noi i muti. Da qui è passato tutto. Sono passati anche i repubblicani. I repubblicani o repubblichini non hanno mica fatto tanto di bello. Era un'idea sbagliata. La vita di oggi è fin troppo comoda. Perciò la gioventù non si abbassa più a niente. Vogliono solo più divagarsi, divertirsi e stare bene. Lavorare più poco che si può. L'avvenire è nelle mani del Signore. Ma io non sono né un profeta né uno spiritista. Ma da un'estremità siamo saltati a un'altra. Sa cosa voglio dirgli? Noi altri a lei diamo risposte. Con lei parlo. Ma io forse con i giovani non parlo. Più che qualche balla, stupidaggine, qualche bestialità. Perché? Perché più che del folle e dello stupido non ci danno più. Non lo dicono direttamente ma o uno non è poi mica un morto finito. Sia che sia, come che sia sia, non c'è più il rispetto dovuto. Perché una volta la parzialità era dovuto al vecchio. Al contrario ora la parzialità e il rispetto è dovuto ai giovani che non sono ancora capaci a guadagnarsi il pane. Abbandonando la campagna i giovani stanno meglio. Hanno meno fastidi, più nessuna responsabilità. Fanno quelle poche ore, dorme soave nel suo letto e ciao. Non come noi che io passo una parte della notte in aria perché c'è la preoccupazione e dell'interesse. Se una bestia va male per un anno noi più niente. Tanto per dirle. Guardi quella vacca che un momento fa ha fatto il vitello. Lei ha visto la nostra preoccupazione. Abbiamo solo quattro vacche. E se andava male? Ma mi scusi. Sa che noi lavoriamo tutta l'annata notte e giorno? Noi non andiamo poi mica per lì attraverso a fare fracasso per le contrate e per le piazze. I contadini li hanno mai visti a fare fracasso? Ne fanno sciopero né un Cristo né Santa Maria. Noi abbiamo altri sagrini per la testa. La vita oggi è cambiata da così a così. Sì, è cambiata in meglio, ma non per tutti. Per parte mia, no, non c'è più il dovuto rispetto per il vecchio. Oggi c'è il benessere. Troppa abbondanza. Alla radio parlano di milioni e miliardi come niente. Che vada sempre bene come oggi. Io auguro ogni bene ai giovani perché ho anche della famiglia, i nipoti. Ma il benessere bisogna anche saperlo curare, non sprecarlo. Mio padre viveva ancora peggio di noi. Ci diceva sempre che noi eravamo già ricchi. Voi mangiate già pane finché volete, ci diceva. Mio c'è a dirla si è scappato da in famiglia con l'età di nove anni. Ha girato, ha girato e è andato a finire a Mondovì chiedendo la carità. Poi si è affittato una cascina dove è stato undici anni. Noi vecchi abbiamo tutta una vita di sacrifici sulle spalle. Abbiamo tirato avanti facendo delle croci. Lavorando abbiamo preservato quel poco. I giovani dovrebbero capirci. Se no, torturano soltanto la persona. Ho 85 anni finiti. Grazie a Dio né carabinieri né pretore né tribunale. Non so per cosa sono a fare. La mia fedina penale è bianca come la neve. Se la pensione contadina è importante, eh crispa, non è una cosa importante. Ho qualche soldo in tasca. Se voglio prendermi un piacere, uno si sente più sollevato, uno può bere un bicchiere di vino. Posso solo dire grazie a quelli lì che hanno avuto l'idea. Mi tolgo tanto di cappello davanti a quelli lì. Sia che sia ci hanno riconosciuti. Se guardo la televisione, no, non vado mai a vederla da mio figlio. Non mi interessa niente vedere quelle marionette che ballano. Il giornale lo leggo qualche volta. Cosa dico degli uomini che vanno sulla luna? Io ci credo. Io non dico né bene né male che vanno sulla luna. Io dico niente. Non mi affermo. Viene Caifa a comandare? Beh, ascoltiamo Caifa. La sua legge che mette? Ne viene un altro? Bassiamo la testa e ascoltiamo la sua legge. Da buon cittadino andiamo dove ci mena. Il giovane invece si ribella. È per questa ribellione che c'è tante avventure nel mondo. Sì, sì. Lei dice che il giovane si ribella anche contro la guerra. Ed è giusto. Ma la guerra ci sarà sempre. C'è stata dall'inizio del mondo. E ci sarà fino alla fine del mondo. Il signore, se vuole castigare una parte della popolazione in qualche maniera, la castiga. Guardi il Vietnam. Una umanità come noi. Bianchi, neri o rossi che siano, sono come noi. Eppure la guerra continua. C'è solo da rassegnarsi. Senza atti di superbia. Oddio. C'è quelli là, i capitalisti, che sussidiano armi, viveri, una cosa e l'altra e si mettono i soldi in tasca. Un cittadino incita l'altro, uno odia l'altro e i capitalisti si fanno i soldi. Una volta c'erano due avvocati e due contadini, come me, che avevano una questione da risolvere. Un bel giorno uno dei contadini va a trovare il suo avvocato e sente dalla porta i due avvocati che discutono fra loro insieme. E uno dice all'altro, tu pela il tuo faggiano, io pelo il mio. Il contadino, che non era uno stupido, torna a casa, va dal suo avversario e gli dice, di, è ora che ci svegliamo, mettiamoci d'accordo anche noi due. Sarebbe bello che la povera gente ragionasse così, si mettesse d'accordo, ma è un sogno e allora bisogna ubbidire, rassegnarsi. Lei dice che i miei figli si sono ribellati quando sono andati a fare i partigiani? Ha ragione. Boh, dovevano andare nella Repubblica a farsi massacrare? Si sono buttati dove era più sicuro. Oh, giacche.